ora metto è mio di invi devo invitare per forza è vero invita dunque inviterò invito fammi pensare invito cico arrivo solo l'invito bezzo c'era che sta vedendo volato io piango oddio mio com'è possibile aspetta è solo tu che inviti vedi è che perché si vede questa cosa strana eh non lo so vedi ok e invito anche a stre faccio così ok in teoria così perché si vedeva quella cosa strana ma si è rotto adesso tipo la vedo un po' e no si vede più nulla perché non si vede più nulla si vede nel ora si a posto a posto chat scusa non l'ho capito perché è successa questa cosa evidentemente l'overlay si è andato ad accavallare è successo invitare la gente lo fa in modo pazzo ok allora ci avete tutti il vostro chef preferito ma certo guarda che sono squaletto pazzo vai ok perfetto allora avviamo qui faccio continua ma ma